Allora, siamo in diretta con Batias Salias, che ha appena vinto il suo match qui al DNA. Raccontaci qualcosa della partita, Batias. Ma è stata una partita giocata bene, sono partito subito forte e diciamo sono riuscito già dall'inizio a correre il mio gioco, infatti è finita abbastanza bene, è finita bene. Bene, il punteggio? 6-0, 6-0 io. Ah, addirittura, va bene, allora al prossimo match cercheremo di fare ancora qualcosa in più. Bene, saluto, ciao.